Gli altri sono tutte le elaborazioni fotografiche della Cappella Sestina, che fece una mostra alcuni anni fa a Chier, poi la prima esposizione, e sono praticamente queste figure michelangelesche che sono immersi in mezzo ai miei meccanismi che rappresentano nel momento attuale drammatico. Questo per esempio ha un colore che esprime proprio questa drammaticità, no? Il rosso è sempre una drammaticità sentita, più sentimentale il rosso, per cui riuscite a mettere in mezzo alle nuvolette e l'icrandio l'ho messo in mezzo ai meccanismi. Ho usato diversi colori. Sì, questo è molto bello. Questo è molto bello con i colori. Questo cosa rappresenta? Sempre un particolare? Tutti particolari della Cappella Sestina. E tecnica? La tecnica è elaborazione fotografica. Sono fotografie poi elaborate al computer. E questo 50 anni fa? No, questi sono recenti. Sono 3-4 anni fa questi. Ho messo insieme questo momento del passato ed è diciamo di oggi quasi. E qui invece cosa abbiamo? Questo è il mio padre. Sì. Un po' abbastanza catastrofico, come vedi. Eh sì. E non scherzo. Infatti queste figure ormai sono svolte. Un caos industriale. E' rimasto soltanto un'interagliatura. Perché diciamo il discorso atomico le ha svolte. E' rimasta l'influenza scheletrica e basta. Non sono scritte veri e proprio. Sono interagliature del nuovo futuro. Torna Massalo cultural. Carolina perfetta. E rata questa domanda. È thepp bees. Vale. Varga domanda. Va parlando. Traторomani. Di pori in our ore ora.